ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco cablivi sanofi srl ultimo aggiornamento 2 agosto 2021 cos'è cablivi confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia contro indicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere cablivi durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli accipienti farmaci esteri cos'è cablivi cablivi è un farmaco a base del principio attivo caplacizumab appartenente alla categoria degli farmaci per il trattamento di porpora trombotica trombocitopenica e nello specifico altri antitrombotici è commercializzato in italia dall'azienda sanofi srl cablivi può essere prescritto con ricetta rrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti confezioni cablivi di acmg polvesolv x soluz in it ev sc1 fl polg più 1 sir prep 1 ml più adate più 1 ago più 2 tamp punto in punto alcol informazioni commerciali sulla prescrizione titolare a blinks nv concessionario sanofi srl ricetta rrl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti classe h principio attivo caplacizumab gruppo terapeutico farmaci per il trattamento di porpora trombotica trombocitopenica forma farmaceutica polvere indicazioni cablivi è indicato negli adulti e negli adolescenti di età uguale a 12 anni o maggiore con peso corporeo di almeno 40 kg per il trattamento degli episodi di porpora trombotica trombocitopenica ptt acquisita in associazione a plasma feresi plasma exchange pie e immunosopressione posologia il trattamento a base di cablivi deve essere avviato e seguito da medici con esperienza nella gestione di pazienti con microangiopatie trombotiche posologia prima dose iniezione endovinosa di 10 mg di caplacizumab prima della plasma feresi dosi successive somministrazione giornaliera di 10 mg di caplacizumab per via sottocutanea dopo il completamento di ciascuna feresi per tutta la durata del trattamento afferetico quotidiano seguita da un iniezione sottocutanea giornaliera di 10 mg di caplacizumab nei 30 giorni successivi all'interruzione del trattamento afferetico quotidiano se al termine di questo periodo si riscontrano evidenze di malattia immunologica non risolta si raccomanda di ottimizzare il regime immunosoppressivo e continuare la somministrazione giornaliera di 10 mg di caplacizumab per via sottocutanea fino a quando i segni della malattia immunologica di base si risolvono ad esempio normalizzazione protratta nel tempo del livello di attività di ad ants 13 nel programma di sviluppo clinico caplacizumab è stato somministrato giornalmente fino a 65 giorni non sono disponibili dati su caplacizumab relativi al ritrattamento dose dimenticata nell'eventualità che una dose di cablivi venga saltata può essere somministrata entro 12 ore se sono trascorse più di 12 ore dall'orario previsto per la somministrazione non somministrare la dose dimenticata e somministrare la dose successiva secondo il consueto schema posologico popolazioni speciali insufficienza renale non è necessario alcun aggiustamento delle dose per i pazienti con insufficienza renale vedere paragrafo 5 2 insufficienza epatica non è necessario alcun aggiustamento delle dose per i pazienti con insufficienza epatica vedere paragrafo 5 2 vedere paragrafo 4 4 per particolari precauzioni nei pazienti con insufficienza epatica grave anziani sebbene l'esperienza sull'uso di caplacizumab negli anziani sia limitata non vi sono evidenze che suggeriscano la necessità di un aggiustamento della dose o di precauzioni speciali nei pazienti anziani vedere paragrafo 5 2 popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia di caplacizumab nella popolazione pediatrica non sono state stabilite in studi clinici la posologia di cablivi negli adolescenti di età uguale a 12 anni o maggiore con peso corporeo di almeno 40 kg e la stessa degli adulti vedere la sezione 5 2 non è possibile formulare raccomandazioni sulla posologia di cablivi per pazienti pediatrici con peso corporeo inferiore a 40 kg modo di somministrazione la prima dose di cablivi deve essere somministrata mediante iniezione sottocutanea in addome evitare l'iniezione nell'area circostante l'ombelico e non somministrare iniezioni consecutivi nello stesso quadrante addominale i pazienti o le persone che li assistono possono iniettare il medicinale dopo aver ricevuto un'adeguata formazione nella tecnica di iniezione sottocutanea per le istruzioni sulla ricostituzione di cablivi prima della somministrazione vedere paragrafo 6 6 controindicazioni per sensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 61 avvertenze speciali e precauzioni di impiego sanguinamento sanguinamento attivo clinicamente significativo in caso di sanguinamento attivo clinicamente significativo il trattamento con cablivi deve essere interrotto se necessario considerare l'uso di concentrati del fattore di fondi le brand vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono stati effettuati studi di interazione per la valutazione dell'uso di caplacizumab con anticoavulanti orali per esempio antagonisti della vitamina k anticoavulanti orali diretti doc o nuovi anticoavulanti orali vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it assumere cablivi durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere cablivi durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza non esistono dati relativi all'uso di caplacizumab in donne in gravidanza studi sulle cavie non hanno dimostrato effetti di caplacizumab sulle femmine incinte o sui feti vedere paragrafo 53 vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari cablivi non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari effetti indesiderati riassunto del profilo di sicurezza le reazioni avverse più frequenti osservate nelle sperimentazioni cliniche erano epistassi cefalea e sanguinamento gengivale la reazione avversa grave più comune era l'epistassi tabella dl vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio in caso di sovradosaggio l'azione farmacologica di caplacizumab può potenzialmente esporre ad un maggiore rischio di sanguinamento si raccomanda un attento monitoraggio per segni e sintomi di sanguinamento vedere paragrafo 44 proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica altri agenti antitrombotici codice atc b01 ax 07 meccanismo d'azione caplacizumab è un nano anticorpo bivalente umanizzato composto da due elementi strutturali umanizzati identici pmp 12 a 211 legati a livello genetico da proprietà farmacocinettiche la farmacocinettica di caplacizumab è stata studiata in soggetti sani dopo infusioni endovinose singole e iniezioni sotto cutanee singole e ripetute la farmacocinettica nei pazienti competiti acquisita è stata studiata dati preclinici di sicurezza in linea con il meccanismo d'azione gli studi tossicologici di caplacizumab hanno dimostrato una maggiore tendenza al sanguinamento nelle cavie tessuto sotto cutaneo emorragico nei siti di iniezione e nel macaco elenco degli eccipienti polvere saccarosio acido citrico anidrocitrato trisodico di idrato polisorbato tanta solvente acqua per preparazioni iniettabili fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato